buona giornata amici ben trovati alla rassegna stampa di fano tv oggi apriamo i giornali come sempre il resto del carlino corriere adriatico sulle pagine locali ci sono tante tante notizie interessanti siamo a fano in il pieno della settimana dedicata alla cultura in collaborazione con pesaro siamo anche noi fanesi capitale della cultura a livello nazionale quindi sono tante veramente le iniziative che si stanno svolgendo e tutte di grande spessore ma ne parleremo dopo adesso intanto passiamo attraverso l'almanacco del giorno chi si festeggia oggi eccola è una bella santa si tratta di santa rosa da viterbo visse nel tredicesimo secolo dopo una grave malattia rosa vestì l'abito del terzo ordine francescano e si dedicò alla penitenza sfidò gli eretici e superò diverse prove incluso quelle di passare tra le fiamme rimanendo in lesa morì giovanissima a 17 anni le sue spoglie sono conservate nella chiesa lei dedicata a viterbo ed il popolo le tributa un culto grandissimo è molto amata santa rosa a viterbo ma credo anche in tutte le altre regioni che conoscono la vita di questa santa un esempio di edificazione e di grande dedizione appunto a dio e ora passiamo passiamo alle previsioni del tempo eccole qua un tempo un tempo variabile un tempo instabile per tutta la giornata di oggi tempo spiccatamente instabile dicono le previsioni con acquazzoni e temporali tra il pomeriggio e la prima serata specie sulle marche centro meridionali insomma verso il sud delle marche i venti ispireranno sulle coste da sud est mentre nell'entroterra da ovest e sud ovest il mare è leggermente mosso le temperature 6 gradi la minima 14 la massima il sole è sorto alle 6 e 40 e tramonterà alle 18 03 ed ora apriamo i giornali sul corriere adriatico la pagina di fano dedicata ad una polemica ebbene proprio nei giorni scorsi abbiamo evidenziato con grande soddisfazione l'apertura del nuovo impianto natatorio nuotiamo realizzato dalla fondazione carifano nei pressi dell'aeroporto un bellissimo stabile belli servizi insomma fano ora si dota veramente di un impianto all'altezza della situazione dopo che ladini salvalai non riusciva più ad assolvere per la sua vecchiezza ai compiti cui era dedicata però c'è un problema un problema che solleva la un'associazione di disabili piscina il disagio dei disabili l'impianto è aperto a tutti sono due tesi contrastanti il gestore ricci e giorgio ricci che è presidente della fano un fortune nuoto l'associazione che insieme alla pull 4.0 gestisce questo nuovo impianto nega qualsiasi preclusione ma la protesta riguarda la sostituzione di un istruttore insomma diciamo chiaramente nella nuova piscina esiste un reparto totalmente indipendente dedicato alla riabilitazione e quindi anche ai disabili però cos'è che si contesta si contesta che l'istruttore che si dedicava a questo settore nella piscina dini salvalai non sarà più lo stesso nella nuova piscina nuotiamo e questa discontinuità crea dei disagi specialmente nei confronti di quelli portatori di handicap che si erano affezionati al loro istruttore ed ecco perché le famiglie protestano si rivolgono anche all'amministrazione comunale chiedendo che l'istruttore sia lo stesso insomma un problema che non è un problema strutturale ma è un problema che riguarda appunto la continuità di esercizio la continuità di insegnamento al nuoto la continuità di riabilitazione insomma anche i disabili vorrebbero che la continuità continuasse continuità continuasse vediamo le altre notizie c'è stata l'altra sera una riunione del comitato di carrara che tutela i cittadini dai disturbi dagli inconvenienti promossi dalla centrale elettrica di carrara il nuovo adriatic link ne abbiamo ormai parlato da tanto tempo ora c'è anche un nuovo problema un nuovo problema perché sembra che una ditta immobiliare di senigallia cerchi di acquistare terreni per farne un deposito di batterie e poi ci sono anche altri contra altre trattative per quanto riguarda terreni per farne dei campi dove ci sono quei pannelli fotovoltaici insomma che non si addicono molto bene alla campagna ebbene c'è stato un confronto con l'amministrazione comunale rappresentata dal sindaco Massimo Seri e dal vice sindaco Cristian Fanesi il sindaco ha accolto tutte le istanze presentate dall'assemblea ha detto che non fermerà nessuna convenzione se prima non sarà accolta non avrà l'assenso appunto dei cittadini di carrara sono 12 i milioni in gioco in questo caso sono i soldi compensativi che verranno messi a disposizione da terna e vediamo come anche il resto del carlino tratta questo argomento elettro d'oro arrivano i soldi per carrara 12 milioni di euro a tanto ammonta il valore delle opere a compensazione dell'intervento per l'adriatic link ed ecco l'elenco delle opere l'elenco delle opere sono tante e soprattutto privilegiano il territorio di carrara come giusto che sia perché è il territorio che sta subendo i maggiori disagi diciamo qualcuno per esempio il marciapiede lungo tutto la via flaminia che attraversa la frazione una via ad alto scorrimento di traffico via flaminia in questo momento è priva di marciapiedi e quindi è in gioco la sicurezza dei residenti e poi abbiamo due rotatorie importanti una nell'incrocio con la via che sale a monbaroccio quell'altro invece nella via che immette nella nuova scuola di cucurano che si trova poi nel terreno di carrara quindi siamo ai confini tra le due frazioni comunque sono due rotatorie importanti per la snellezza e anche per ridurre la velocità del traffico a carrara cucurano ci sono degli autovelox che in questo momento stanno veramente facendo un'opera di prevenzione per quanto riguarda la velocità perché altrimenti fioccano le multe e comunque le multe fioccano lo stesso perché ci sono ancora autisti che non seguono le direttive del codice della strada e poi la sostituzione di tutti i sottoservizi là specialmente dove bancano acqua gas fogne per così aumentare l'efficienza di questo settore a servizio della frazione ed altre ed altre situazioni importanti come per esempio l'utilizzo della vecchia scuola di carrara come sede delle associazioni sono solo alcuni questi degli interventi che l'amministrazione comunale dovrà poi mettere a disposizione con i soldi che riceverà da terna per a compenso appunto dell'adriatic link e soprattutto l'amministrazione comunale dovrà porre dei vincoli per impedire che i terreni agricoli siano trasformati in depositi di batterie considerando che quello è un terreno agricolo e non è certo una zona industriale. Dal climate change a Vitruvio ci sono le voci contro la guerra e il secondo articolo di apertura sulla pagina del Corriere Adriatico è dedicato a tutto il programma della settimana della cultura che Fano sta organizzando per mettere in evidenza le sue peculiarità le sue risorse. Al via anche Circomania 34 eventi con oltre 100 relatori spazio anche ad arte e teatro non c'è veramente l'imbarazzo della scelta. Uno sguardo al programma a partire da domani dalle 8 alle 10 dalle 11 alle 13 nel cinema Politeama si parla di aria fresca, l'industria della moda, criticità, esempi virtuosi e possibili soluzioni. Poi nel pomeriggio alle ore 17 nella chiesa di Santa Maria del Gonfalone intervista a un giovane attivista di ultima generazione, un'associazione che pratica di disobbedienza civile. Il tema è molto delicato. A seguire alle 18 e 30 nella nuova sala della cultura in Viarco d'Augusto, sede dell'ex tribunale, c'è bilanci di sostenibilità e certificazioni ESG, strategie per le imprese a sostegno del territorio. Ma poi in contemporanea al Bonbon in Viale Cairoli, l'incontro in bici per il clima, a cui partecipano Domenico D'Amelio ed Emanuela D'Attolo, che sono ricercatori della stazione zoologica Anton Dorn di Napoli, che fa parte di Marine Center. Questa iniziativa è organizzata dalla Università del Mare. Poi ci sono tante altre iniziative, vi ricordo anche quella che sarà organizzata per quanto riguarda il Perugino. La vediamo anche qua sul resto del Carlino. Perugino e Raffaello, luci sul mistero della firma. Oggi in Fondazione Carifano una tavola rotonda e dibattito con i massimi esperti. Si parlerà anche della passione del pittore per il mare fanese e altri aneddoti. Si sa come il Perugino amasse innanzitutto il gelato. Veniva nelle Marche, veniva a Fano per mangiare il gelato e poi per fare i bagni. E si dice anche che indugiasse nel dipingere questa bellissima pala di Santa Maria Nuova perché voleva stare qualche giorno in più e godersi la spiaggia di di Sassonia, di Metauriglia. Quella volta il convento di Santa Maria Nuova era nei pressi di San Lazzaro, quindi probabilmente sarà un po' verso la zona sud della città e dove lui faceva i bagni. Insomma, gli piaceva stare in riviera. E allora, torniamo sul Corriere Adriatico dove vediamo a fondopagina una presa di posizione di Fratelli d'Italia che si è espressa ieri sera in Consiglio Comunale presentando una interrogazione sul problema della toponomastica. Ci sono ancora tante località, specialmente in campagna, nell'entroterra del Comune, prive della denominazione delle vie, soltanto con una denominazione generica a località. Questo crea dei gravi problemi in caso di soccorsi per quanto riguarda i vigili del fuoco, le ambulanze, eccetera. Ed è stato rievocato proprio il caso di una signora a cui è andato fuoco la cucina e che ha dovuto aspettare. Sono arrivati in ritardo purtroppo i vigili del fuoco perché non si capiva bene dove era questa località. Le informazioni che la identificavano non erano così precise come avrebbero dovuto essere. A questa cosa ha risposto ieri il vice sindaco Cristian Fanesi e ha detto che questo problema veramente esiste. Si cercherà di porvi rimedio ma dipende un po' anche da quello che aveva dalle direttive dell'Istat che erano state così promosse, divulgate qualche anno fa. Ora si cerca di mettere le cose a riparo e già qualcosa è stato fatto a Metauriglia, a Tombaccia e in altre località dell'entroterra. Ed ora passiamo a Fossombrone. A Fossombrone giovani rinasce la consulta e sarà un osservatorio permanente. Parla l'assessora Romiti. Sarà uno strumento di crescita culturale. Le adesioni devono essere sottoscritte entro il 22 marzo prossimo. Favorire la crescita culturale e sociale della comunità è l'obiettivo di questa nuova consulta di cui ha trattato il Consiglio Comunale di Fano approvando il regolamento. La consulta rappresenta un osservatorio permanente della realtà giovanile di Fossombrone, ha detto la Romiti, e si propone di offrire oltre a riflessioni ed idee il proprio contributo per favorire la crescita culturale della comunità. Insomma, i giovani protagonisti con le loro idee, con la loro attività per indirizzare anche i provvedimenti dell'amministrazione comunale. Nuovo tavolo operatorio a Pergola. Beh, insomma, qualche notizia di buona sanità qualche volta arriva. L'annuncio è stato dato dalla direttrice responsabile dell'azienda sanitaria territoriale Storti. E qui vediamo l'equip della chirurgia di Pergola che si avvale di un nuovo tavolo operatorio, quindi uno strumento in più per incentivare innanzitutto il numero delle operazioni e poi ovviamente anche la qualità delle stesse. Abbatte una pianta con il furgone e scappa. È accaduto a Mondolfo. Il conducente cercava un'area di sosta libera. L'ha trovata, però, insomma, per inserirvi ha battuto addirittura un albero, un tiglio provocando la caduta. E poi se n'è andato. Però lì sono intervenuti i tecnici del Comune, sono intervenuti anche i carabinieri e hanno sgomberato ovviamente dalla pianta caduta la sede stradale. Ed ora i militari hanno raccolto anche sul posto le testimonianze per rintracciare l'automobilista. Vediamo anche la pagina di Senigallia che riporta la notizia che abbiamo già anticipato nella giornata di ieri. Ebbene Prada, questa grande ditta di moda, arriva a Senigallia e porta 80 nuovi posti di lavoro. Insomma, non sono veramente cose da poco. Un vecchio capannone diventa un atelier. Anche il sindaco Livetti commenta favorevolmente questa notizia. Una grande opportunità per Senigallia, dichiarato che è molto attrattiva non solo per il turismo. Ebbene, è stato presentato all'amministrazione comunale il progetto di Prada, un progetto di ristrutturazione del capannone della vecchia Ciaire. L'abbiamo parlato proprio nella giornata di ieri. E poi per quanto riguarda invece il raduno del Early Davidson, questo evento che caratterizzerà un po' anche l'azione promozionale di Senigallia, servono anche i servizi e soprattutto servono due nuove ambulanze. Perché poi si parla di 50.000 presenze e i servizi che ci sono non sono sufficienti per magari far fronte ad una eventualità che potrebbe accadere durante questo evento. E quindi c'è un appello alla Regione Marche. Ed ora passiamo alla pagina di Pesaro. Vediamo qua la pagina pesarese, dove si parla di un nuovo regolamento di polizia locale. Dai Wreiter ai bivacchi nel nuovo regolamento La Stretta del Comune. è pronto questo nuovo regolamento che restringe molto le norme che erano in vigore, riduce molto da 175 a 38 gli articoli di questo nuovo dispositivo di regolamentazione. Però insomma lo si aggiorna e lo si rende più idoneo per così regolare l'attività sociale e soprattutto quella del modo di condurre la propria vita di tutti i giorni al giorno d'oggi. Le disposizioni previste per regolamentare i cantieri rumorosi nella zona mare e il centro storico nelle prime ore della mattinata è uno dei primi caposaldi che prescrive il nuovo regolamento. Bisogna limitare i rumori per far sì che anche i lavori si adeguino alla vita sociale della città. E poi sono previsti articoli che tutelano il decoro urbano contro atti vandalici. Wreiter, deiezioni canine abbandonate, accattonaggio molesto e invasivo, tutela e decoro degli edifici privati e pubblici ed anche aree verdi private e pubbliche, utilizzo e fruizione del suolo pubblico e attività economiche. Sono diverse le disposizioni e ve ne voglio dire ancora altre. All'articolo 4 si vieta di abbandonare bottiglie di plastica, gomme da masticare, mozziconi di sigaretta e qualunque altro genere di rifiuti, anche di piccolissime dimensioni, a tutela del decoro pubblico. I proprietari di cani sono tenuti a portare la bottiglietta d'acqua, oltre ai sacchetti per le deiazioni. E quanti? Sì, ci sono molti anche nel nostro territorio, anche in provincia, anche a Fano, ci sono proprietari di cani che generalmente hanno con sé i sacchetti per le deiazioni, ma pochissimi. Nonostante che anche a Fano ci sia un regolamento che imponga loro di portare la bottiglietta d'acqua, sono pochissimi che osservano questa parte del regolamento. Bottiglietta d'acqua perché? Perché i cani ovviamente orinano e lo fanno spesso anche contro i muri, contro le porte delle case e con una bottiglietta d'acqua si eliminerebbero odori, cattive impressioni. Insomma, ci vorrebbe anche questa precauzione per tutelare il decoro della città. E intanto, per quanto riguarda l'avvertenza che era in vigore nella polizia locale di Pesaro, sembra che si sia trovato un accordo ed infatti è stato sospeso lo stato di agitazione. Sono state accolte le prime richieste su servizi e indennità presentate dal CSA che è il sindacato autonomo della polizia locale. Ed ora parliamo di una malattia che purtroppo va estendendosi sempre più ed è l'Alzheimer. Una malattia che non coinvolge soltanto chi ne è affetto, ma coinvolge anche i loro familiari. Ci vuole più sostegno, l'abbiamo detto tante, tante volte. Sono oltre mille i malati nel comune di Fano, sono tanti, tanti di più quelli che hanno questa malattia a livello provinciale. E che cosa accade a Pesaro? A Pesaro si inaugura un punto d'incontro dedicato alle persone colpite dal morbo dell'Alzheimer e soprattutto ai congiunti che prestano loro cura, noti come i cosiddetti careviger. Perché non si sentono più soli nell'affrontare questo complesso disturbo che è molto invalidante. Cresce la richiesta di aiuto. 782 i pazienti seguiti dall'Azienda Sanitaria Territoriale. Sabato l'inaugurazione di comune e ambito. Ebbene una proposta questa che arricchisce il welfare del territorio avanzata dall'ambito territoriale e sociale insieme al comune di Pesaro che sarà l'ente capofila. Assolto l'ater del sindaco, non è certo che fosse lui. Si tratta di un sessantenne che era stato accusato di aver insultato Ricci sui social durante il Covid. Nei mesi scorsi altri odiatori, così vengono definiti, sono stati invece condannati per diffamazione. E poi vediamo invece un episodio che coinvolge questa volta non gli uomini, non i ragazzi, ma le ragazze. Minacciata una ragazza per un ragazzo conteso. E a farlo chi sono? Sono altre tre ragazze. Tre ragazze piuttosto vivaci. Dal gruppo di amiche una è stata condannata addirittura a otto mesi. Un'altra assolta, la terza, sarà giudicata dal Tribunale dei minori perché ancora non ha compiuto 18 anni. Ebbè, che cosa era accaduto? Un ragazzo conteso, una ragazza insultata da tre coetane. La si accusava, questa ragazza, dalle tre, di aver avuto una relazione con il fidanzato di una delle tre. Insomma, qui sono problemi di gelosia, problemi di prevaricazione, problemi di stalking. Questa ragazza sarebbe stata vittima di minacce, minacce piuttosto pesanti, fatte attraverso i social e anche tramite Whatsapp. Per esempio, do fuoco a te, alla tua macchina, alla tua casa, ti spacco la faccia, tu muori o comunque ti sfresci. Cose veramente terribili a livello di minacce e quindi questa ha fatto denuncia al Tribunale e ora c'è stata la sentenza. Vediamo anche la pagina di Urbino sul Corriere Adriantico. Riceci flash mob a Bruxelles, l'Europa, ci deve ascoltare, una delegazione di attivisti è andata a Bruxelles, 40 attivisti contro il progetto della maxidiscarica, soprattutto del comune di Petriano, ma anche residenti a Pesaro, Urbino e in altre località. Si sono autotassati, sono andati a Bruxelles e hanno protestato di fronte al Parlamento in appoggio alla interrogazione di Smeriglio. Ed ora passiamo al resto del Carlino. Nel resto del Carlino abbiamo già visto l'apertura dedicata alla riunione di Carrara. Ed ora invece diamo spazio ad un articolo che io considero interessante, interessante dal punto di vista dell'innovazione. È firmato da Tiziana Petrelli. Il mestiere del futuro è l'idraulico. Farò una scuola nella mia bottega. Ebbene, chi ha avuto delle rotture a casa del sistema idraulico di un rubinetto, degli scarichi, eccetera, sa quanto è difficile trovare un idraulico esperto e soprattutto quanto costa. Ebbene, l'idea di William Mattioli, un 69enne fanese, è quella di realizzare una scuola per giovani idraulici, assicurare loro un posto di lavoro e tutto questo gratis. Veramente una bella iniziativa. E con questa notizia chiudiamo la nostra rassegna stampa, dandovi appuntamento, come sempre, alle 7 di domani. Grazie per l'ascolto e a risentirci.